Ciao ragazzi, benvenuti su Kiva International e io sono Anita. L'altro giorno mi trovavo in una scuola ed una ragazza alza la mano e mi chiede, ma come hai fatto a fare tutto quello che hai fatto fino ad adesso? Come hai fatto a capire che cosa volevi e a raggiungere quello che era il tuo obiettivo? Quindi mi sono fatta un'analisi di coscienza, tra virgolette, mi sono fatta un po' di domande e mi sono resa conto che per raggiungere i propri obiettivi bisogna lavorarci ogni giorno, quindi volevo darvi un piccolo consiglio oggi, per raggiungere quindi quello che è il vostro obiettivo vi consiglio di lavorare ogni giorno, quindi almeno per magari una mezz'oretta, un 30 minuti ogni giorno, mettere per iscritto quelli che sono i vostri obiettivi, quindi ad esempio volete andare a lavorare all'estero, non ci siete mai andati, avete paura, volete uscire un po' da la vostra zona di comfort, ma non sapete che cosa fare, come farlo, non avete le indicazioni, le persone, le informazioni, ogni giorno, per mezz'oretta, dedicatevi solo a questo, solo a quello che è il vostro obiettivo futuro, immaginate uno sportivo, uno sportivo che per ogni giorno, per 30 giorni, fa 100 flessioni, ok? La costanza del farlo ogni giorno per 30 giorni lo porterà ad un risultato, mentre se sarete come quelle persone che magari dicono bene, perfetto, oggi mi metto in forma e fanno mille flessioni, il risultato sarà semplicemente un gran male alle braccia per due o tre giorni, che poi vi stopperà completamente nel voler continuare a perseguire il vostro risultato, quindi un po' dosate un po' quello che è la vostra voglia e quello che sono i vostri obiettivi ogni giorno, quindi cercate magari appunto di scrivervi, di farvi una lista dei risultati che volete raggiungere ogni giorno, lavorate un pochino perché questo risultato possa essere portato a compito, quindi a importo. Quindi scriviti per 30 giorni quello che vuoi fare ogni singolo giorno e quindi per quello che vuoi raggiungere anche per tutti i prossimi giorni, questo farà sì che il tuo cervello si alleni e sono certa che in questa maniera riuscirai a raggiungere qualsiasi traguardo. Spero che questo piccolo ragionamento ti possa essere utile, se il tuo sogno è andare all'estero e non sai come farlo, noi siamo qui anche per aiutarti, quindi se hai bisogno di un consiglio oppure di una consulenza puoi chiamarci, trovi tutte le informazioni qui sotto, ti lascio anche la mia mail, info-kiva-international.com Io con la determinazione sono riuscita a raggiungere tanti di quelli che erano i miei sogni, che era una vita all'estero, infatti ho vissuto in Inghilterra, in America, in Spagna, ho aperto la mia azienda, ho lavorato al Parlamento Inglese, ho lavorato per la Nato, ora sto per partire per Singapore, per un progetto, quindi ogni giorno io lavoro con determinazione quello che è il mio obiettivo finale. Sono sicura che potrai raggiungerla anche tu. A presto!